Benvenuti a questo terzo seminario in presenza della serie dei seminari della E-Skills Week, settimana europea sulle competenze informatiche, tenuta con il patrocino della Direzione Generale per le Imprese e l'Industria della Commissione Europea. E-Skills Week è un'iniziativa promossa dalla Direzione Generale per le Imprese e l'Industria della Commissione Europea ed è coordinata da due enti, Digital Europe e European Schoolnet, ed è svolta in collaborazione con 20 partners nazionali e stakeholders, cioè parti in causa dei diversi paesi europei. L'obiettivo di questa iniziativa è mettere in rilievo la crescente richiesta di utenti e professionisti qualificati nel campo dell'ICT per dare impulso ad un'Europa competitiva ed innovativa. Quindi il messaggio di fondo è implementare una strategia a lungo termine sulle competenze digitali e questo accomuna il lavoro di E-Skills Week e della Giovanni Biancofiore.com. La Giovanni Biancofiore.com è stata inserita in questo progetto, in questa iniziativa come stakeholder nazionale per il suo approccio innovativo nella consulenza informatica. La mission della Giovanni Biancofiore.com è fornire consulenza informatica personalizzata ad alto valore aggiunto a soggetti pubblici e privati attraverso progettazione, implementazione e amministrazione di reti informatiche, attraverso cheap web marketing, cioè soluzioni web aggregate flessibili a basso costo e attraverso formazione inerente, in presenza o a distanza, in e-learning appunto. Le basi della mission della Giovanni Biancofiore.com è centrale la consapevolezza dell'importanza delle nuove tecnologie nella società della conoscenza in cui viviamo, quindi nelle reti di cui siamo nodi. E' irrinunciabile per tutti oggi avere skills almeno di base nelle ICT per mantenere il passo con l'alta dinamicità dei saperi e delle competenze e quindi per essere cittadini attivi e aziende competitive per partecipare nella società della conoscenza. Questo appunto significa essere in rete e continuiamo il nostro percorso parlando di reti in senso ampio. Io mi presento, sono Sabrina Leone, sono dottoranda di ricerca in e-learning all'Università Politecnica delle Marche e oggi parleremo insieme appunto dell'importanza delle nuove tecnologie ICT nell'ambito dello sviluppo della cittadinanza attiva. Cercheremo di analizzare e di discutere qual è il legame tra lifelong learning, quindi l'apprendimento permanente, l'empowerment, il potenziamento dei cittadini e delle persone e l'e-learning, l'apprendimento a distanza. L'obiettivo del seminario. Partiamo dalla strategia di Lisbona del marzo 2000 dell'Unione Europea per enfatizzare il ruolo centrale delle ICT nella costruzione della cittadinanza attiva. A marzo del 2000 appunto gli stati europei hanno definito la strategia di Lisbona centrata sulla crescita e sui posti di lavoro, migliori e maggiori posti di lavoro, quindi sullo sviluppo dell'Europa su queste basi. Gli stati dell'Unione Europea allora decisero che l'obiettivo strategico del decennio successivo per l'Europa avrebbe dovuto essere diventare l'economia più competitiva e dinamica basata sulla conoscenza, l'economia più competitiva al mondo, capace di crescita economica sostenibile con maggiori e migliori posti di lavoro e maggiore coesione sociale. Le conclusioni di questo summit di Lisbona contengono anche una serie di raccomandazioni su quello che è necessario realizzare per raggiungere questo obiettivo strategico. Le conclusioni quindi fanno riferimento al completamento del mercato interno e all'applicazione di un appropriato mix di politiche macroeconomiche, quindi completamento del mercato nel senso di visione olistica del mercato, non solo economica. La necessità di investire nelle persone è diventato un obiettivo importantissimo, quindi oltre alle tradizionali misure economiche si ritorna all'empowerment, al concetto di empowerment, appunto potenziamento delle persone. Ovviamente le persone si attivano perché si attiva l'individuo e questa espressione I am powerful, posso, sono potente, non fa che mettere in evidenza che il protagonista della società che apprende è il cittadino attivo, che è un individuo autonomo, capace di autoapprendere, un individuo che partecipa nella società civile e civica. L'individuo è impegnato quindi nello sviluppo attivo delle diverse dimensioni della cittadinanza, che non sono limitate alla conoscenza e alla comprensione degli eventi, ma che coprono lo sviluppo di competenze e comportamenti tratti da esperienze di partecipazione in una serie di contesti, quindi in contesti diversi. L'enfasi sulla cittadinanza attiva è rinforzata dal ruolo chiave attribuito all'istruzione nelle politiche europee. Il sistema educativo è sempre più considerato elemento cruciale del cambiamento sociale. La politica educativa dovrebbe mirare a preparare i giovani e a supportare gli adulti, a mantenersi al passo con il cambiamento della società moderna, ma anche a sviluppare conoscenza, competenze, approcci, comportamenti necessari per trarre il massimo dalle sfide che gli individui affrontano nel corso della loro vita. L'istruzione acquisisce un profilo più olistico e flessibile rispetto al passato, ha luogo in una più ampia gamma di contesti e quindi mira a aumentare la personalizzazione dell'apprendimento e quindi l'autonomia di chi apprende. Ed è in questo senso che parliamo di empowerment. To empower significa potenziare, quindi l'empowerment è il potenziamento degli individui. Potenziare gli individui significa dare impulso alla nostra società. È per questo che apprendimento, lifelong learning, quindi apprendimento permanente, imparare ad imparare, sono stati individuati come chiavi di successo per l'innovazione e il progresso sociale europeo in particolare, ma non solo. E questo è stato ulteriormente enfatizzato nella parte denominata istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società della conoscenza, che è parte integrante dei documenti europei redatti nell'ambito della strategia di Lisbona. In questa parte è menzionata una serie di misure relative a istruzione e formazione in Europa appunto.